13 artisti con 129 opere parteciperanno alla 73esima edizione del Premio Michetti in concorso dal 1 agosto al 25 settembre a Francavilla al Mare nel Palazzo San Domenico. Figura, figure, l'immagine delle immagini e il tema dell'edizione di quest'anno che sarà inaugurata il 30 luglio alle ore 19. Nunzio Giustozzi, curatore della 73esima edizione del Premio Michetti, che edizione sarà quella di quest'anno? Un'edizione che rende immagino alla grandezza, al genio di Michetti. Torniamo alla vera grande pittura, spesso marginalizzata dal mercato dell'arte contemporanea, opere sacre, ritratti, la natura che consola il momento così tragico della pandemia, perché si può essere originali anche nella figurazione, anche è molto più difficile essere originali nella figurazione. Dipinti, ma anche fotografie in onore a Michetti e sculture. Sarà un percorso iniziatico perché i 13 autori porteranno moltissime opere, quindi sarà un'esperienza immersiva e emozionale. La 73esima edizione del Premio Michetti è stata presentata nei giorni scorsi in conferenza stampa. Palazzo San Domenico sarà aperto al pubblico dalle 18 alle 23 fino al 25 settembre. Tra le novità di quest'anno, anche la prima edizione del Premio Digital Michetti, come annunciato da Cristina Rapino, assessore alla cultura del Comune di Francavilla al Mare. Quest'anno abbiamo cercato di ripartire anche noi un'edizione particolare, questa 73esima edizione del Premio Michetti, intanto perché abbiamo da poco rinnovato gli organi della fondazione. Ringrazio nuovamente il professor Andrea Lombardinino per aver accettato l'incarico di questa presidenza. Sarà un premio particolare, saranno 13 gli artisti in concorso e c'è una piccola novità, questa forse è la nota più fresca, perché ci sarà il premio Digital Michetti. Sarà possibile votare a partire dal 1 agosto, quindi il giorno dopo l'inaugurazione di questa 73esima edizione, per tutti gli appassionati dell'arte e chi vorrà visitare il sito della fondazione Michetti e votare per questi artisti in concorso. Grazie.